Che vol, che vol, che vol, che vol, che vol 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 Allo stadio comunale di Rignano va in scena l'ultimo atto del campionato d'eccellenza girone B fra Rignanese e San Giovannese molte le emozioni che si incrociano nel rettangolo verde in questo finale di stagione Tra i padroni di casa, Mr. Coppi ritrova la maglia con cui l'anno scorso conquistò e vinse i playoff con la mente concentrata però a portare a casa punti per evitare i play-out. Dall'altra, Mister Benedetti, digerita la delusione di non aver conquistato la vetta, cerca i tre punti per andare a giocarsi direttamente la finale play-off, che si giocherà a fine aprile. Senza Morelli, Mugelli, Fedeli e Romanelli, i bianco-azzurri rivoluzionano tutto e si presentano con Muscas fra i pali, difesa 4 con Buccianti, La Rocca, Bega e Frio, centrocampo con Stella, Caldarelli e Nardoni davanti De Gori, dietro alle due punte Petriccione e Lepre. I bianco-verdi provengono dalla vittoria esterna contro i lanciottocampi e schierano da subito in porta Burzagli, difesa centrocampo e attacco, con Rigoli, Messana, Bettini, Lex di turno, Mocarelli, Bettoni, Bennati, Mercatelli, Paci, Mazzoni e Privitera. All'andata finì in pareggio, arbitra all'incontro il signor Bonucci di Grosseto. Prima di iniziare, rispettato un minuto di silenzio per la scomparsa del padre di Zavaglia, allenatore della Juniores San Giovannese. Le immagini sono curate da Gianni Marziali. Inizia il primo tempo e dopo 5 minuti la Rignanese si fa vedere con un tiro timido dalle parti di Muscas di Bettini, centrale e debole. Al tredicesimo la Sangio va vicina al gol con il solito De Gori, che fa tremare la traversa dei locali con una punizione delle sue. Al sedicesimo, botta e risposta fra le due squadre, dal limite i padroni di casa scaldano i guantoni di Muscas, che si distende bene sul tiro di Privitera. La partita scorre via a ritmi lenti e con molti errori da una parte e dall'altra. Bisogna aspettare il 44esimo, quando la Rignanese sfiora il palo con il tiro violento di Privitera, che si spegne sul fondo. Il primo tempo si conclude con il bel gioco che ha latitato e con la noia che più volte ha fatto capolino nel terreno di gioco. Inizia il secondo tempo e non accade niente. Fino al quindicesimo minuto, quando a smorzare la noia ci pensa la rete. Muscas si accorge di un buco nella rete. Il regolamento vuole che la rete sia integra e allora circa cinque minuti di stop per ripararla. E si riparte. Alla ripartenza la Rignanese rompe gli indugi del secondo tempo con la bordata da fuori di Mercatelli. Al ventitresimo, Lassaggio torna al tiro con il cross di De Gori, che porta al tiro da dimenticare di Petriccione. Al ventisettesimo, De Gori con un colpo di testa sul cross da calcio d'angolo sfiora il gol con la palla che sorvola di poco la traversa. Al trentunesimo, è Lepre a provarci dal limite dell'area della Rignanese, ma il tiro non trova di poco lo specchio. Al quarantaduesimo, Bega si presta a fare l'attaccante e sferra un buon tiro che, impreciso, finisce a lato. Al quarantasettesimo, ultima occasione per Lassaggio. De Gori dà l'illusione del gol con un colpo di testa che colpisce la rete esterna dei locali. Un punto per uno e Lassaggio vola direttamente alla finale play-off. La Rignanese conquista la salvezza senza passare dai play-out. Partita lenta e noiosa, forse la mente era già proiettata al futuro. Intervista dopo gara, partiamo con Lassaggio Vannese e il direttore generale Maurizio Grazzi. Intanto è stata una stagione sicuramente soddisfacente, positiva, adesso arrivano i play-off. La società come vede il futuro e come vede anche il presente? Dunque, la stagione è stata con un po' di alti e di bassi. Purtroppo abbiamo perso tanti punti con le ultime della classe, però il calcio è così e quindi ci sta. Non siamo soddisfatti della prestazione odierna né della prestazione peraltro neanche di domenica scorsa. Speriamo che questo ci sia servito per rifiatare in visto delle finali play-off. Nota positiva che andiamo direttamente alla finale perché avendo perso il Foiano c'è la forbice di 10 punti fra noi e la quinta e quindi non faremo la semifinale play-off. L'altra domanda era per l'improvviso l'obiettiva dell'anno prossimo. L'anno prossimo se dovesse essere eccellenza faremo l'eccellenza se dovesse essere nazionale dilettante faremo il nazionale dilettante. Rignanese, mister Coppi ex di turno insomma un anno fa si festeggiava in casa San Giovannese ora si festeggia in casa Rignanese per questa salvezza. Sì, credo una salvezza meritata bene ci hanno sentito si festeggiava e hanno festeggiato. No, ringrazio questi ragazzi onestamente meritavano la salvezza diretta abbiamo ripartire dal capo sarebbe troppo lungo ma io vorrei menzionare in questo momento vorrei menzionare due ragazzi che con noi purtroppo non ci sono più perché hanno avuto due gravi lutti familiari hanno perso il papà nel corso della stagione quindi era una stagione già assegnata per noi partita male io sono arrivato in corsa però mi sento partecipe di questa situazione quindi io ora mi sento di dedicarla a questi due ragazzi oltre ai miei fantastici ragazzi che ho già salutato e che stanno facendo la doccia il mio pensiero era a questi due ragazzi che oggi non sono con noi purtroppo e certo è stato veramente da quando all'anno è stato il lavoro più difficile sicuramente in tutti questi anni di lavoro quest'anno è stata particolarmente difficile da portare in porto una vita a Rignano il prossimo anno? ma ancora guarda però mi voglio godere questa 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 salvezza oggi era importante avevamo paura è inutile stare la mia squadra aveva paura era timorosa di questa partita la San Giovannese doveva solo vincere si potevano scatenare delle situazioni e delle combinazioni che potevano far comodo a me ma anche far scomodo e la San Giovannese non voleva fare questa partita sicuramente la se stesse vinceva buon per loro che ha perso il foiano e a questo punto gli ha permesso di fare la forbice con il foiano e a me è un punto che ha permesso di non andare a fare play out questo era il nostro scopo un punto a 40 bisognava arrivare e quindi lo scopo l'abbiamo raggiunto e ora festeggeremo tranquillamente mister Benedetti una partita particolare adesso però si pensa subito ai play off perché la mente deve essere concentrata lì sì in queste due ultime nostre prestazioni sicuramente al di sotto del nostro valore probabilmente paghiamo questa grande rincorsa che abbiamo fatto siamo un po' a corto di energie sicuramente a livello mentale ora abbiamo tutto il tempo di prepararci alla finale diretta regionale la squadra ha bisogno di riposare di recuperare energie mentali è quello che faremo in questi giorni alla ripresa poi ci prepareremo bene per questa finale play off che non possiamo fallire ho già fatto la domanda grazie la rigiro a lei zero gol in due partite la preoccupano? no non mi preoccupano perché comunque la squadra nelle partite precedenti aveva sempre creato tanto e aveva sviluppato grandi prestazioni ecco quindi non non mi preoccupo assolutamente è chiaro che vanno recuperate delle energie perché la squadra in queste ultime due partite ha dimostrato di essere stanca soprattutto a livello mentale ma è normale quando si fanno queste grandi rimonte perché da quando sono arrivato io io non posso imputare niente alla squadra la squadra mi ha dato il massimo e il rendimento è stato sicuramente più che positivo ora pensiamo ai play off e prepariamoci bene Romanelli Morelli Mugelli e anche Fedeli da recuperare potrebbe anche essere questa la chiave di volta sì sicuramente è importante di qui alla finale dei play off recuperare tutti vorrei avere tutti a disposizione purtroppo oggi alcuni giocatori importanti mancavano ma chi è andato in campo comunque ha fatto il proprio dovere come ho già detto prima siamo un po' a corto di energie ma ora abbiamo tutto il tempo di recuperare Privitera uno dei pochi ad aver tirato perché oggi i tiri hanno un po' latitato che partita è stata e la soddisfazione di questa salvezza è la soddisfazione siamo stati indiffiolta fino all'ultima giornata ci bastava un punto però loro diciamo ci hanno fatto la guerra hanno fatto la partita anche loro dovevano andare a play off e noi siamo contenti di questo risultato è stata difficile fino dall'inizio e siamo proprio soddisfatti ecco dal campo come l'avete vissuta perché è stata una partita da ritmi lenti sarà tesi sia noi sia noi che loro sarà molto tesi all'inizio della partita è stata dura però ce l'abbiamo fatta grazie sì era un obiettivo secondario abbiamo lasciato il campionato così domenica scorsa e allora era importante non fare una partita che poteva crearci qualche problemino siamo in finale adesso lavoriamo bene per far sì per proseguo per andare in serie D ti vedo però un po' preoccupato forse zero gol in due partite per la San Giovannese vuol dire qualcosa ma sai noi siamo una squadra che creiamo creiamo tanto a volte ci sta che magari non si riesce a fare gol è una cosa che è capitata però adesso guardiamo avanti e mettiamoci sotto che la strada è lunga è come se ripartisse un nuovo campionato un mini campionato appunto quello dei playoff l'obiettivo è ovviamente arrivare in serie D non sarà facile anche perché si giocherà se doveste arrivare alla finale interregionale fino a giugno ma sai io è da tre anni consecutivi che faccio i nazionali quindi diciamo che hai detto bene è un nuovo campionato quindi bisogna lavorare bisogna metterci sotto per far sì che arrivare nei migliori dei modi ai nazionali cosa può mancare a questa San Giovannese ma no ma dai il gruppo c'è l'allenatore c'è la società c'è quindi bisogna solo far bene Cosimo Galli per la Rignanese grande festa e si pensa ovviamente a festeggiare poi l'anno prossimo quello che verrà si vedrà si vedrà si appunto è stata un'annata difficile per noi quindi non era facile pensare anche di potersi salvare prima dei playoff è stato un ottimo risultato e siamo molto contenti come si può vedere sicuramente c'è stata un'annata difficile il momento forse più basso della Rignanese qual è stato? Molto probabilmente dopo 4-5 giornate del giro di ritorno eravamo vicini agli ultimi e pensavamo a non arrivare ultimi appunto e lì è stato un momento difficile però ci siamo venuti fuori siamo contenti un ottimo risultato un gran finale solo da festeggiare ora Dove avete iniziato a crederci? Quando avete iniziato a crederci? Ma dopo aver vinto con l'Albini è stata una partita molto difficile meritavamo di perdere molto probabilmente abbiamo vinto è stata un po' la svolta del campionato e poi da lì ci siamo rimessi in corsa e abbiamo cercato di fare più punti possibili chi la dedicate questa vittoria? Tu a chi la dedichi? La dedichiamo a noi stessi io penso che sia il gruppo la società l'allenatore noi quelli da festeggiare i migliori dai Sì Sì Sì